Si svolgerà il prossimo sabato 11 maggio alle ore 9.30 presso il Cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania la cerimonia di premiazione del concorso rivolto alle scuole della Diocesi di Vallo della Lucania sul tema Amore per il mare. L'iniziativa promossa dalla pastorale sociale e custodia del creato della Diocesi ha promosso la realizzazione di elaborati testuali o multimediali sul tema della tutela del mare di profonda attualità per il nostro territorio in sintonia con la laudato sì di Papa Francesco. All'evento parteciperanno rappresentanti delle diverse scuole coinvolte, il presidente del Parco del Cilento Tommaso Pellegrino, il comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro Giovanni Paolo Arcangeli, il presidente della Lega Navale di Palinuro Sergio De Rosa, la dottoressa Sandra Otscheid del Centro Ricerche Tartarughe Marine di Napoli, il segretario nazionale di Lega Ambiente Michele Buonuomo, il professor Francesco Gallo, responsabile dell'ufficio diocesano custodia del creato e sua eminenza Monsignor Ciro Miniero, modererà l'incontro il giornalista Vito Rizzo.